Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Asfaltature a Fano per due notti da oggi, circolazione interdetta in Viale Gramsci Macerata, morto il professore condannato per abusi, l'ipotesi è di suicidio Incidente stradale su via Campanella, Fano, tre i veicoli coinvolti, nessun ferito Domenica 29 aprile, al convento dei Cappuccini di Fossombrone e in programma la festa del beato Benedetto Passionei Al Santa Marta di Pesaro sfida tra istituti alberghieri in nome di Rossini Buonasera cari telespettatori, benvenuti a Occhio alla Notizia Tutte le sere il nostro telegiornale alle 20.30, l'avete sentito nei titoli Continua il piano di asfaltature del comune di Fano Questa volta tocca a un punto cruciale della viabilità fanese Quella rotonda, che poi rotonda non è perché è una specie di biscotto allungato Davanti a via Cavour nell'area dell'ex distributore dell'Agip E per questa asfaltatura sono previsti piani particolari alla circolazione Sentiamo dall'assessore Cristian Fanesi come varierà la viabilità nelle prossime 48 ore Continua il piano di asfaltature, questa volta viene toccata un punto cruciale della città di Fano Sì, perché la rotatoria di via Cavour del borgo via Giordano Bruno Quindi un posto centrale per la città di Fano E dunque abbiamo deciso come ufficio tecnico di asfaltarla durante la notte Durante le ore serali per non portare danno alla viabilità Perché purtroppo in quella rotatoria arrivano sia l'uscita della superstrada Sia l'attraversamento della città E quindi anche oltre alla viabilità interna in relazione anche al fatto che c'è l'ospedale, il centro storico E quindi non possiamo fare altrimenti che asfaltarla di notte È rovinata anche dai lavori di Aset che ha riqualificato l'acquedotto Quindi dobbiamo farlo E dunque abbiamo deciso sia la notte del 26 che la notte del 27 di chiudere e di fare i lavori E di chiudere quindi la viabilità in quel tratto di strada Che ovviamente è molto delicato E per questo che consigliamo chi deve attraversare la città di Fano Di passare attraverso gli interquartieri Arrivando da nord attraverso gli interquartieri Mettersi in via Pertini Dunque arrivare alla rotatoria di Sant'Orso Prendere via Papiria E andare verso via Mattei Quindi verso l'ex zuccherificio fino a Marotta E viceversa ovviamente Invece per la viabilità locale Ovviamente si troveranno dei disagi e delle interruzioni locali In particolare sarà chiusa via Le Gramsci Tra via Cavour e via Malagodi Sarà chiusa via Montegrappa All'accesso della viabilità ordinaria Sarà chiusa via Palazzi Tra via Negusanti E via Montegrappa E quindi di conseguenza via Giordano Bruno sarà chiusa completamente Ci saranno delle indicazioni in loco Però ovviamente invitiamo la popolazione Nelle notti del 26 e del 27 aprile Dalle ore 20 alle ore 6 A causa dei lavori A informarsi e prendere anche una viabilità alternativa Ovviamente tutte le segnalazioni saranno fatte in loco E sicuramente crediamo che Avendo fatto i lavori di notte Il disagio sarà molto contenuto Ma soprattutto dopo il 27 avremo una rotatoria Che è quella principale della città di Fano Bella asfaltata e a breve anche la segnalettica Decorerà diciamo questa intersezione Veramente molto importante per la città di Fano E il professor Francesco Parillo Di 54 anni Docente di anatomia Alla facoltà di veterinaria di Mattelica È morto l'altra notte per un arresto cardiaco Dopo aver assunto un mix di farmaci Parillo era stato condannato Il 23 aprile scorso dal tribunale di Macerata Ha tre anni di reclusione per violenza sessuale Su sei dei suoi studenti Che lo accusavano di palpeggiamenti e carezze hard Da martedì non rispondeva più al telefono I vigili del fuoco e dei carabinieri Lo hanno trovato in stato di semi-incoscienza Su una poltrona di casa a Macerata Nonostante le cure praticate per rianimarlo L'uomo è morto all'ospedale di Camerino I funerali del professore si terranno domani mattina ad Acquaviva Picena Cultura, turismo, territorio Qual è lo stato dell'arte a Fano? Se ne parlerà sabato prossimo al Teatro della Fortuna Nella Sala Verdi Qual è lo stato dell'arte del sistema culturale fanese? Il percorso intrapreso sin qui Dove ci ha portato e quali sono le future strategie E metodiche di comunicazione più proficue per Fano A queste domande si tenterà di rispondere Sabato 26 maggio alle ore 8.30 Presso la Sala Verdi del Teatro della Fortuna Dove si terranno gli stati generali della cultura di Fano L'obiettivo ultimo è quello di inquadrare Una proposta culturale coerente Con una visione di sviluppo della città All'evento sarà presente Claudio Bocci Presidente di FederCulture L'associazione nazionale degli enti pubblici e privati Istituzionali e aziende Operanti nel campo della politica E delle attività culturali Che afferma e sostiene il ruolo Dell'impresa nella gestione Di beni e delle attività culturali Come fattore di sviluppo e di progresso Gli stati generali della cultura di Fano Distinguono tre specifici tematismi Dell'ambiente culturale della città e del territorio Ogni tematismo marca le origini di un confronto Segna l'argomento dei lavori da esercitare in tavoli dedicati I tre tematismi riguardano Istituzioni ed eventi culturali Quindi il bilancio sociale della cultura a Fano Uso e funzione del patrimonio culturale della città e del territorio E branding e comunicazione Noi annunciamo oggi per il 26 di maggio Quindi tra circa un mese Una giornata di lavoro Che noi chiamiamo gli stati generali della cultura Ma che iniziano in realtà dai primi di maggio Quando i gruppi che chiameremo a lavorare Gruppi aperti a tutta la cittadinanza Quindi certamente associazioni culturali Persone di buona volontà Che si interessino di questi temi Affascinanti vogliono dibattere Quelle che sono delle sessioni tematiche Tre ne abbiamo individuate Su cui concentrarci Ed è appunto la comunicazione Il tasto dolente di tante realtà italiane Che pur avendo tesori inestimabili Non riescono ad emergere Rispetto a siti mondiali Che vantano un minor peso storico e culturale Ma che hanno di molto investito in comunicazione Penso che ci siamo mossi in questi quasi quattro anni In quella direzione Insieme a tante altre città d'Italia I risultati si vedono E che dobbiamo fare ancora molto Quindi gli stati generali servono Da un punto di vista per fare un bilancio Di quello che è stato fatto In modo molto sincero Critico Ma soprattutto per rilanciare E vedere quello che si può fare in futuro E cambiamo argomento Apriamo la pagina della cronaca Un incidente tra un auto e uno scooter Si è verificato questa mattina Intorno alle 7.30 in Viale Buozzi Affano I due mezzi stavano procedendo Nella stessa direzione di marcia Quando, forse per un'invasione di corsia Si sono urtati Provocando la caduta del 41enne di Pesero Che si trovava a bordo delle due ruote Uomo è stato trasportato Al pronto soccorso del Santa Croce Per accertamenti Mentre la 60enne Fanese Alla guida dell'auto Non ha riportato nessuna conseguenza Sul posto sono intervenuti Vigili urbani per i rilievi di legge Per regolare il traffico Particolarmente intenso in quell'ora Ancora strade pericolose Ci spostiamo nel pomeriggio Però perché un incidente Alle 15.30 di oggi Senza feriti Fortunatamente con il coinvolgimento Di tre veicoli Si è verificato all'incrocio Di via Campanella Con via Galilei A Rosciano di Fano Un mezzo di linea Dell'Adria Bus Condotto da un conducente Fanese di 49 anni Che stava percorrendo Via Campanella In direzione Urbino E' stato urtato Sulla parte anteriore destra Da una seat altea Che proveniva Da via Galilei Condotta da una pesarese Di 50 anni Probabilmente Per una mancata precedenza Sull'esatta dinamica Del sinistro Però sono in corso Ancora gli accertamenti Da parte dell'infortunistica Della polizia locale Di Fano Giunta sul posto Per eseguire I rilievi di regge Durante i rilievi Degli agenti Però la municipale Ha subito Un terzo tamponamento Il veicolo Condotto da Una ragazza Di 23 anni Ha tamponato Leggermente Il bus Fermo Sulla carreggiata Riportando Solo lievi danni Alla corruzzeria All'auto E per i quali E' stata eseguita Una constatazione Amichevole Con la compilazione Dell'apposito Modulo CID E ritorniamo a parlare Per qualche istante Della cerimonia Del 25 aprile E dell'episodio Che ha visto Protagonista Luca Paolini Appunto Per la festa Della liberazione Perché dopo Il diverbio Tra i centri sociali E Luca Paolini Della Lega Oggi il deputato Intervenuto Per replicare A Simona Ricci Della CGL Sono incredibili Ha scritto L'onorevole In una nota Le parole di solidarietà Della segretaria CGL Pesaro Ricci Gli antagonisti Che mi volevano Cacciare ieri Dal corteo Del 25 aprile Per la sindacalista Prosegue Paolini E cosa buona E giusta Che un gruppo Di antagonisti Possa decidere Chi partecipa O no A una cerimonia pubblica E quindi Che un cittadino Venga fisicamente Spintonato E insultato Per impedirgli Di presenziare Alla deposizione Di corone In memoria Dei suoi concittadini Fucilati Dai nazisti Mi piace pensare Ha concluso Il deputato Che la fesseria Che ha scritto Sia solo una Conseguenza Postrotaumatica Della legnata Che la sinistra Ha preso Alle elezioni Del 4 marzo Anche in provincia Di Pesaro E visto che abbiamo Parlato Di stati generali Della cultura La cultura È turismo E allora A proposito Di turismo Fra poco Poche ore E poi ci sarà Il ponte Del primo Di maggio Vediamo E sentiamo Qual è Il borsino Delle prenotazioni Dei fanesi La Francia La Spagna L'Italia Allora 25 aprile Primo maggio Ponti Iniziano I grandi esodi Dei ponti E delle vacanze Quali sono Le mete Preferite In questo momento Dai fanesi Ma visto che Quest'anno I ponti Sono messi male Sono corti Non si può fare Delle grandi vacanze Molti sono rimasti In Italia Le terme Ischia Istria Country house Va molto Toscana Umbria Campania Napoli Lago di Garda Le capitali Europee Logicamente Olanda Spagna Regno Unito E sta andando Forte anche L'Egitto L'Egitto Santo Domingo Sono delle destinazioni Che stanno andando Abbastanza forte Per tutti quanti Qual è un po' Il polso della situazione Qual è il costo Medio della vacanza Diciamo che Con 5-600 euro 700 euro A persona Si fa ancora Una bella vacanza Se no Il nostro territorio Offre tante cose A costi Contenuti Il nostro territorio Offre tantissime cose Non avendo noi Un brand Importante Unico Che tira Dobbiamo purtroppo O per fortuna Mettere insieme Tutta una serie Di servizi Che vanno Dall'enogastronomia Dalla storia Dalla cultura Dall'arte E ne abbiamo Ne abbiamo Nella provincia Di Pesaro Abbiamo tre Importanti gruppi Dalla Svizzera Che vengono Il prossimo mese Per l'energia Alternativa Il Lions Club Italia propone Un'iniziativa A volta La prevenzione Di disturbi Di ambliopia Dei bambini Che coinvolge Le scuole Dell'infanzia Con il patrocinio Del comune Di Pesaro L'ambliopia È una riduzione Dell'acuità Visiva Di un occhio Il cosiddetto Occhio pigro Si verifica In circa Il 4-5% Dei bambini Nei primi anni Di vita E di solito Risulta reversibile Se si interviene Nei primi 4-5 anni Di età Il soggetto Si propone Il progetto dunque Si propone Di realizzare Uno screening Tra i bambini Di 4 anni Di età Effettuando Visite gratuite A cura Degli specialisti In particolare Lo screening Si rivolge Ai bambini Nati nel 2014 I piccoli Coinvolti Di tutte le scuole Dell'infanzia Comunale Statale Di Pesara Sono 359 184 Delle scuole Statali E 175 Di quelle Comunali Domani Alle 15 Verranno inaugurati I nuovi servizi Del centro ospedaliero Santo Stefano A Cagli Sarà l'occasione Per presentare L'avvio Dell'attività Del reparto Di lungo Deggenza E del poli Ambulatorio Questi servizi Consentiranno Di integrare L'offerta Di salute Sul territorio Ed anche Grazie all'introduzione Di nuove specialità Ambulatoriali All'evento Saranno presenti Luca Ceriscioli Il presidente Della regione Marche Le autorità civili E religiose Del territorio E continuiamo con gli eventi Del fine settimana Domenica 29 aprile Al convento dei Cappuccini Di Fossombrone E in programma La festa del Beato Benedetto Passionei Che sarà presieduta Da un triduo Di preparazione Il programma Prevede per questa sera E domani Alle ore 21 Una santa messa Presieduta Dal frate Mauro Scoccia Sabato Si terrà Una santa messa Alle 20 e 30 Nella chiesa Di Sant'Antonio Poi alle 21 Una fiaccolata Fino al colle Dei Cappuccini E alle 22 e 30 L'accoglienza Nel piazzale Del convento Omelia E benedizione Con la reliquia Del Beato Domenica Invece Verranno celebrate Una santa messa Alle ore 9 Una alle 10 e 30 E poi nel pomeriggio Alle 16 Una benedizione Dei bambini Presieduta Dal vescovo Trasarti E l'ultima messa E in programma Per le 17 Presieduta Dal frate Mauro Scoccia E naturalmente Rossini È nel suo anno E tutte le celebrazioni Vengono indirizzate Su questo Momento così Particolare E anche Visto che Il compositore Era un gourmet La gastronomia Non poteva Essere tenuta Da parte E quindi Sono pronti A partire Della volta Di città natale Di Rossini E gli oltre 30 studenti E docenti Che venerdì 4 maggio Si sfideranno A colpi Di prelibatezze Italiane Per conquistare Il titolo Di vincitore Di Gioachino Rossini Gran gourmet Il primo concorso Nazionale Per gli istituti Professionali E alberghieri Iniziativa Che ha già coinvolto Nelle fasi preparatorie Oltre 20 scuole Di tutta Italia E i giovani studenti Saranno proposti All'organizzazione Con un piatto Per scuola Che comprendesse Nella ricetta Almeno uno Degli ingredienti Preferiti Da Rossini Come i tortellini Le tagliatelle Pesce di mare Uova E tartufo Le ricette Arrivate Sono state Selezionate Dalle proposte Dei dieci istituti Finalisti Cialcuna Di queste Dovrà essere Presentate Insieme al racconto Del procedimento Di preparazione Nelle proprietà Organolettiche All'indicazione Del vino In abbinamento E al brano Scelto Tra le musiche Di Rossini Più adatte Alla ricetta Lo sportello Dell'ufficio Passaporti Della questura Di Pesaro E Rubino Resterà chiuso Al pubblico Per l'intera giornata Di lunedì 30 aprile Bene E con questa comunicazione Io mi fermo qui Termina questa edizione Di Occhio alla Notizia Questo è il numero Che vi dovete segnare Per mandarci segnalazioni O vostre Comunque comunicazioni Quindi per entrare in contatto Con la nostra redazione E adesso prima di lasciarci Vi do le indicazioni Su che cosa Verrà dopo di noi Quindi Box In cucina Con lo chef E guarda Chi c'è Bene Grazie E buona serata A tutti voi Grazie Grazie